benvenuti in un nuovissimo video del mio canale oggi siamo insieme a una mia amica ciao sofia buongiorno anche se registriamo di sera ma è sempre buongiorno oggi facciamo una bella partitella la dobbiamo vincere ok sofia c'è il cena quando ho detto la dobbiamo vincere c'era quella della mia skin tipo ha guardato in un modo tipo tipo la devi vincere ecco guarda questo sguardo che sta facendo adesso mi trasformo l'armatura e dobbiamo spaccare il sederino a tutti sì sì proprio tutti moruti dobbiamo iniziare subito iniziamo con 20.000 manco gli hacker noi non siamo giusto sofia sofia è un hacker abbiamo capito ok dove scendiamo manco a me potremmo andare in un punto in cui non ci vedo quasi mai però alla fine si lotta bene a piazza in culino no perché ci parte subito un sacco combattento in casa possiamo andare no manco abbassione brutale cosa non è mandare la cittadella oh no vabbè sì ok ok ah sì io vado nel villaggetto vicino alla casetta oh questo si si crede esperto ma come osi tu ciccione anche se è un magrissimo ma è ciccione vero sofia è ciccione mi sono più potente c'ho l'armatura potente da gica iperman ma questa zona acqua non sapevo l'esistenza di sta zona allora siamo attenti perché vicino il villaggetto in cui sto andando io ci scende sempre uno massimo due persone però il problema è il castello perché ci sono il boss più le altre persone che ci danno fastidio quindi attenzione guarda ragazzi c'è il genna che vi fa come si chiama la camminata quella di michael jackson quello al contrario ah ecco un wall che mi sembra non mi ricordo perfetto ok ok non ci credo sofia ho un pompa bianco eh vabbè si 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 ma ma intende mo want happy è kings ito scivolato o minate attima raggata cementi di una laggata e sono scivolato scivoluto io con le mancelle e così al busto papà non serve a niente cioè alla fine spendi oro e basta io alla fine non lo uso non lo uso quasi mai l'oro no io lo uso perché mi compro l'aria eh si io alcune volte invece tipo ogni volta inizio si sono sempre lo spendo un sacco poi verso la fine divento tir mi ne ho 73 oh ma non riesco a prendere un barile prende ovunque tranne il barile la cittadella non riesco a salire ma no ragazzi ditemi che non sono sordo lo sento anch'io ho sentito tipo un rumore strano appena sono stata accanto a un portale oddio io sono proprio la cittadella dove c'è il posto ok arrivo cacchio perso danno oddio posso danno morire ma io non capisco tu ti puoi tipo le acche che non vendi danno da caduta ma totalmente scusate scusate mi sono affogato ok sto meglio se lo volete sapere sto benissimo che è successo ah li ho visti ah ti sei completata la camia mia mi compro la nuvola sai che non l'ho usata un botto oh cavolo ci sono due che volano ho paura 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 ho sbloccato tipo una specie di stile della skin oh no no non è la skin l'altro gli amici da casa non capiscono stavamo facendo una partita a un certo punto lei tipo vedo il frutto qua e dice oh wow un ananas poi scopro se lo dogo scopro se lo dogo che ma alla fine manco sembrano delle bacche perché sono enormi ho sbagliato ci sono due team sotto io non gli voglio dare fastidio sono amicini questo è un problema un grosso problema glossito problemito dove sono i sono qui sono qui sono da me i tizi che c'erano prima sono dentro quella casa li ho visti li sono usciti sono usciti cacchio spero che non mi abbiano visto io ok sono soffie di dritte si lo so devi attento a tutti non prendo le punizioni mentre tu spari lo soffie di dritte non è male ma che cosa è successo cacchio è qua attende sofia ha preso il martello mi metto qua e lo prendo a distanza e lo prendo a distanza dove 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 è lì non lo so l'ho visto andare verso quella parte attenta ma è normale che io ancora non assalto ma qua uno scaro veramente e qui dentro mi sa brava sofia il martellino me lo prendo arrafo arrafo tutto perfetto sta andando non per dire però sta andando bene sta partita lo vuoi eeeh se poterlo puoi prendere tu eeeh qua c'ha corriamo corriamo attenzione mentre mi mandano messaggio questo è il gruppo della classe ma cos'è sta cosa c'è un coso in cielo ah ok il coso di la capsula di come si chiama la di ti dà ok di il dentale si è messo abbastanza bene torna l'assalto che c'è lo bianco però alla fine vieni qua ah il tesoro perfetto cavolo perché proprio l'occhi rossi io proprio l'occhi rossi non lo riesco a sopportare frecce ne dovrei avere si 21 no tutte e in caso quelle che non puoi prendere ok in caso tipo come facevo un sacco di tempo fa con un mio amico quando le avevano messe all'inizio tipo quando c'era qualche come qualche frecce che non poteva prendere le prendevo io e quando gli servivano gliele davo tipo così per acquisitori di frecce lo sarà buggato il coso è tipo lo stavo prendendo però me l'ha fatto mangiare cinghiale e volevo dire prosciutto ciao prosciutto sofia ha trovato il prosciutto scusa ok carri sofia dai ce la puoi fare sofia sofia ce la puoi fare io faccio mangiare una bacca al cinghiale mancia cinghiale corri ok ah scusa non volevo non pensavo che ti facevo danno e uno lì sotto io ci vado addosso ah sto cretino ah crap ignorante oh ma che gli ho fatto attento 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 ti spara una distanza ah ok ciao prosciutto come stai corri cacchio ho sbagliato ho butto il martello al posto di una luce a meridù a meridù ah no allora è chi era eccolo eccolo sto crap muovi scimpanzè ucciderò perfetto si è ucciso prima l'abbiamo ucciso prima che faceva la kamea mia mamma e qua ci sono altri tre kamea mia ok ci godo non mi è preso non mi è preso al momento giusto io uso prendo sta roba eh perché presto lo diventerà ma è buono il prosciutto ok lì c'è lo smashe dei decchi io manco manco li prendi questi poteri così prima io quando c'erano all'inizio io riprendevo sempre le kamea mia mi rendo ma così naturalmente io sono sopra un albero che sto distruggendo uno uno morto no sofia 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 sono morto sono morto ah ma non eri tu ah ma non eri tu addio attenta sofia copriti 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 che fa freddo sofia ma perché hai dato skin tipo a un certo punto fa il sorriso poi guarda fa il sorriso poi non lo fa più addio ma ho rotto tutto cavolo adesso mi servirebbe un meccato costruisco le piccole belle è un video molto divertente sì c'è molto commentary non esiste tra gli anni in sto video ma proprio no c'è un altro lì sotto ah scusa ciao mette la porta no ok siamo di piccoli costruttori qui ah però dobbiamo scappare c'è uno ti ho buttato via ah scusa ah scusa 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 la faccio io ok uno lì accanto al cespuglio ok che bel video contento ce la possiamo fare ok sofia ce la possiamo fare anzi ce la dobbiamo fare sofia punto e bassino perché tu non hai preso danno ah no sì ok ok uh ancora bomba non è male che c'è il l'ipton si io sto io mi 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 eh attento che fuori c'è uno con la macchina perché ho una paura orrenda delle casse perché le trovo ai mani sto distruggendo un'altra cosa dobbiamo correre di già lo so però eh dobbiamo correre quindi prendiamo questo ma c'è uno accanto a noi questo è francesco ha la sua stessa skin oh cacchio questo mi sta sparando si attenda c'è quello lì sotto ok mi sembra craccato no ok si era bugato il il martello mi ha fatto il il coso cosato un altro lì sotto beh ma tu non uccidi Sofia brutto maledetto cavolo Sofia arriva un altro brutto ti uccido di un ucciso la sorella Sofia mi sa però non ti posso curare mi sa che mi vuole uccidere eh ti sei ucciso vabbè non non mi non mi animare ok eh che cavolo e niente siamo arrivati quinti però dai e niente ragazzi il video può finire così ci vediamo un altro giorno per un bellissimo video bellissimo ciao